Buonasera signore e signori, sono AC88, benvenuti con la parte 15 della nostra Nazalook Challenge Vedete come sfondo? Un paesaggio marittimo, non siamo su Minecraft Mi stanno appena chiamando dal cellulare, aspettate un secondo Ok, riprendiamo, era Mr. Sbog che mi ha detto della partita di calcetto Scusate un secondo Come vi dicevo, abbiamo Vaniglia a livello 31 L'ultima parte l'ho registrata un po' di tempo fa Non mi ricordo ora se i Pokémon erano di questo livello oppure no Dovrò andarmela a rivedere Abbiamo sempre Tonno, Ghost E poi abbiamo quel Magikarp che avevamo soprannominato Hope L'ho fatto evolvere, vedete, ha condividi esperienza Non è mai morto, ovviamente E ha imparato, ovviamente, Morso Perché è l'unico attacco che può imparare assolutamente Gheridos appena si evolve Quindi affrontiamo gli ultimi, come si chiamano? Pescatori Ok, ma forse l'avevo già sfidati Per allenare Per allenare Hope Sarà che è un sacco che non ci rigioco Appunto No, ok È un po' che non ci rigiocavo a Pokémon Platinum Un po' che non registravo Quindi, ovviamente, avevo perso già qualcosa Perché ultimamente sto a... Uh, Gheridos a livello 28 Perfetto Sarà meglio sostituirlo Perché Porca Però se usa Morso Sicuramente mi manda KO Perché ultimamente con Magistone Ci siamo dati a Minecraft E... E boh, quindi ci stiamo distruggendo a giocare a quello Mi sta richiamando Mr. Sbo Un secondo Ok, era di nuovo Mr. Sbo Che mi ha detto che venirà Verrà a casa mia a lasciare la macchina Per poi andare ad Arezzo a giocare a calcetto Comunque sì Abbiamo scompito questo piccolo peschereggio Pesco allenatore E... Come vi dicevo Con Magistone 23 Ci stiamo spaccando a Minecraft Adesso abbiamo creato un server tra di noi Questo diceva le impronte Non mi interessa Altri dicono che c'è la gente che non si comporta Bravo Ok, ciao Impronta, cosa sia quello che... Sì, ok, ciao Praticamente Ehm... Ci stiamo spaccando a Minecraft Perché abbiamo creato un server E quindi Ehm... Ci siamo creati casa Eccetera, eccetera E quindi è molto divertente Perché ovviamente Io lavoro Non so Fino alle 8 Massimo 8 e mezzo Poi esco Poi dopo Lui quando esce dal suo lavoro Ehm... A tarda notte Lui non fa il prostituto Ma... Ma... Potrebbe magari Ecco E quindi Torniamo a casa La sera Dalle Una Di esplorare Tipo una grotta Ehm... Incredibile Distruttibile E una volta che l'avremo Speriamo Terminata E conclusa Avremo intenzione Di dare Ad alcuni Ehm... La possibilità Di entrare Nel nostro mondo Nel nostro server E fare Magari Tipo Delle mini puntate In cui Che ne so Facciamo dei mini episodi Ovviamente faremo Cioè Non sempre Le stesse persone A rotazione Chi vuole entrare Magari ecco Sarà divertente Giocare con me E Magiston Se ne avete voglia E ovviamente Anche noi Se riusciamo a far combaciare Gli orari Perché non penso Che alcuni di voi Vogliano giocare Alle due di notte Su Skype Probabilmente Facciamo dei barboni Perché usiamo Skype Facciamo piano Perché altrimenti Ci buttano fuori Di casa E... Quindi A questo punto Acquistiamo Delle super pozioni 7 e 7 Fa 14 Più una 15 Non hanno Le cura totale Però hanno I super repellenti Questi ci possono fare 13 Ok E poi I revitalizzanti Non ci interessano Le pozioni Damene 14 E siamo a posto Ok Le megaball Ne ho 5 Quindi ne prendiamo Altre 5 Tanto qui Non ci potremmo Catturare niente E qui una Perfetto A questo punto Questa che vende Minovore Skullo Volver Non ci interessa Andiamo direttamente All'interno Della zona Safari Di Di Pokemon Platano Di Pokemon Platino Che è appunto La grande palude Qui possiamo farci Una foto Come se fosse Antani In Krogank Mi si è bloccato Il gioco Ok Grazie Ma perché c'era Un Krogank Boh Vabbè Boh Entriamo all'interno Della grande palude In cui Ci daranno 30 Safari Ball Abbiamo un tempo Determinato Insomma che Asconda dei passi E potremo Catturare Un po' Di Pokemon Ora Io sto andando Da caso La Nazaluke Challenge La sfida parte Quindi Dato che Probabilmente Ci saranno Pokemon Che abbiamo Di già O Cose varie Mettiamo che Abbiamo 5 incontri Per trovare Qualche Pokemon Particolare Vediamo un po' Il primo Pokemon Che incontriamo Un Yanma Quindi catturiamo Un Yanma Vediamo un po' Ok Quando fuggono Diciamo che abbiamo 5 tentativi Ora altri 4 Perché se fuggono Non ne posso fare niente Abbiamo Una sola cosa Proviamo con un Wooper Niente E fugge Quindi il secondo Buono Vediamo ora Un Quacksire No Merda No Sbagliato Volevo mettere Scaccavolo Un Quacksire Sarebbe stato Utilissimo Eh Porca troia Oh Un altro Quacksire Vediamo con l'esca Sì Resta allerta Vediamo una Safari Ball Resta allerta Dai No 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 Anche il Quarto tentativo Se n'è andato Vediamo con il quinto Beh non mi potete dare 5 tentativi È difficilissimo Dai 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 Catturalo Sì Abbiamo catturato Un Wooper E quando si avverte Sulla terraferma Eh Sì Lo chiameremo Terra Ma sì Tech Non Ter Ter Terqua Terca Terqua Bah Vabbè Nome Assolutamente Bruttissimo Qua troviamo una Pokeball Quindi a questo punto Ce ne possiamo anche Andare noi Da Se riesco a capire Come si apre il menu Forse non si può aprire Ok Un Bivare il Fuga Dobbiamo andare verso l'uscita Perché abbiamo già Cavolo Un Tropius Questo era bello Tropius Perché abbiamo già Preso il nostro Wooper Maremma Gatta Oh Ok Rinuncia Esatto Usciamo dalla zona Safari E andiamo a questo punto Allora Vediamo Wooper Wooper Che credo che si volva A livello 30 E Non è male Secondo me Quagsire È uno dei Pokemon Perché ovviamente È l'evoluzione A noi Quella che ci serve È uno dei Pokemon Secondo me Uno dei più forti Perché È acqua terra Impara anche mosi Tipo ghiaccio Quindi può sconfiggere Un po' di tutto Ok Quindi dovremmo sfidare Damian Non me ne ricordavo Probabilmente era meglio Se mettevo Luxray Come primo Perché lui ha Rastaraptor No no Ancora Rastarevia Ok Vaniglia Usa doppio team Forse con una scintilla Lo dovremmo beccare Se mi riesce Ok Ha più 5 di elusione Anche bassa Perché insomma Avresti anche rotto Un Ponita Usiamo gli scintilla Di nuovo Qui sarebbe stato meglio Mandare Wuppert Ma Sarebbe bene Allenarli un po' tutti Il problema Che Adesso Vaniglia Ha preso Primplap Ha preso Piega Ha preso Una buona piega Forse Vaniglia Si Ha la forza Dei vecchi Pokemon Deceduti E un Roselia Pokemon Ah ecco Siamo a Spago Ho visto che Ponita si evolve A livello 42 46 mi sembra No 42 Non sicuramente Al 30 O comunque sia Giù di lì Questa cosa è No Bruttissima Veramente Perché Tenere Spago Fino Cioè È bello Sì Ma insomma Sarà Ci vorrà molto tempo Wuppert A livello 22 Ci vorrà molto tempo Prima che si evolva Ok Quindi non ce lo voglio Ad andare a curare I Pokemon Utilizziamo Almeno per questa volta Le pozioni Ok Ter qua Mi sembra che Wuppert In Quagsire Si evolve A livello 30 Non riesco a parlare E Non ci dovrebbe Nemmeno avere tanto Ok Quindi andiamo a sfidare Eh Re Misterio Perché il proprietario Di questa vuole essere Re Misterio Con i suoi Piccoli frughelli Un Bibareil A livello 29 Usiamo un pantano bomba Iperzanna Allora 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 Eh Bibareil Già rischia qua Eh Cioè ragazzi Avete visto Ci ha fatto un Iperzanna Ci ha fatto Tentennardi Poco ci manda K V per Non aveva nemmeno Calcato il suolo Che già era morto Non male per Terqua Che rischia Che rischia di essere Mandato K O Oramai questa palestra Me la ricordo a memoria Ora mi perdo Affrontiamo altre Questo Whiskash Whiskash Che è Elettrico Maremma Maiala Che è Elettrico Aspetta Elettrico Acqua Perché stavo pensando Non lo so È un psicoraggio Magnitudo 10 E Ghost Se ne va Ragazzi Abbiamo qui Un signore Porca Maiala Mi fai che sostituirlo Perché se usa Magnitudo Siamo Siamo fritti Dai Hop Su Ok Andiamo un po' Eh Perfetto Hop Issavenestremis Mamma mia Mamma mia Ci abbiamo Più Pokémon Acqua Che altro Ghost È già andato Perfetto Questo mi fa Molto piacere Terqua Non riesco a capire Quando si voglia Evolvere Tra 2000 Due punti Buono Avete visto Ha usato Pantano Bomba Non Non ne ha fatto Cioè Non l'ha manco preso A quello Vabbè Allora Affrontiamo questo Qui ci vorrebbe Un Pokémon Vedi se Invece che Vper Avevamo trovato Come si chiama Tropius Non sarebbe stato Malvagio Però Insomma Schianto ovviamente Fallisce Oh Bene Si ricarica anche con Le moze Di tipo acqua Ah Quindi Viene in inglese Comunque sia Sì Quello Feliper usa due volte Attacco rapido Non sei malvagio Complimenti Riprova E Oh Sare il velo Oh Oppa Impara Ira Di Drago Per fortuna Cavolo Ah Una mossa decente Toglie solo 40 Però Ok Affrontiamo anche questa Oh Azuril Abbiamo Terco Abbiamo Pantano Bomba Insomma Non è che Ha fatto niente Ti schianto io Addosso Ti schianto io Boom Terco a 94 Azumeril A livello 31 Quindi mandiamo Vaniglia Acquanello Andiamo in scintilla Non penso che resista È paralizzato Usa me Rotolamento Strano Che non l'ha mandato KO E Merrill Ovviamente una scintilla Andrebbe mandato KO Esatto Perfetto Allora Riproseguiamo Quassù Affrontiamo anche Questo Pescatori Che ha 3 Che ha 3 Che ha 3 Golden Terco a Sbadigliamolo Amnesia Divisa speciale Ma Vabbè Golden Dorme Abbiamo Pantano Bomba Di nuovo Pantano Bomba Di nuovo Qui va sostituito Immediatamente Per Tonno Tonno che è uno dei Pokemon meno usati Del mondo Nemmeno Tonno si usa Cioè nemmeno Un Pokemon Come Bronzor Si utilizzerebbe Un Geridos Perfetto Usiamo Maiala Lupa Stordiraggio E Hypnosi Uh Attenzione 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 Tonno se ne va Tonno se ne va Ma andiamo gli Vaniglia A questo punto Dovrebbe essere anche Confuso Cioè Se si confondeva Utilizzava Hypnosi Sarebbe stato perfetto Ma Così Non è stato A livello 24 Un Seeking A livello 31 Un po' che è un abbastanza Forte Vaniglia sale A livello 33 Allora Vediamo un po' Abbiamo due Pokemon Mandati K O Terqua Che è A 1027 Punti O Pesale A livello 24 Quindi Ci vorrà Un pizzico Com'era La puta Dei Griffin In cui c'era Peter faceva Un pizzico Del mio Ingegno No No Tutto No Non era L'ingegno Ci vorrà Un pizzico Della mia Intelligenza No No Tutta La mia Intelligenza Era più lungo però Cacchio Ragazzi Stiamo parlando Di Di Terqua Che Stiamo andando A casa Forse un Wingull Se gli riesce Uh Grande Uno Scellos Scellerato Mandalo Tio Quale Che vado Andiamo Hop Idropulsar Non gli farà Niente Usiamo Ira Di Drago Che toglie Soltanto 40 Quindi Ha sicuramente Più di 80 Di 80 Ci avrà 81 Forse Eh Ovviamente Viene confuso Anche un brutto colpo Un gold Duck Siamo gli morso Uh Andiamo Vaniglia Usa Confusione Strano che Non mi l'ha Confuso Perfetto Hop Ok Quindi a questo punto Io vado a curare La squadra Perché Altrimenti Siamo messi Veramente male A depositare Gli altri due Ghost E Quell'altro Shimmunid Di bronzer Che oramai Sono andati KO Ok Curiamo La nostra squadra Per qualche secondo Perfetto Arrivederci Ciao Sposta Pokémon Allora Faccio prima Fare così Squadra No Non posso Farlo Perché Non è la parte Touch screen Di sotto Tonno Viene mandato Nel box A rapidartigli Strumento Si E poi Ghost Peccato Perché Ghost Non sarebbe stato male Beh Diciamo che Ne abbiamo fatti fuori Ne hanno fatto fuori Abbastanza Dei Pokémon Però Allora Io volevo Iniziare La sfida Contro Quell'uomo Con un Quackzire Quindi affrontiamo In secondo Un Pokémon Perché Altrimenti Ci vuole Veramente Un casino Perché mi sembra Che anche lui Abbia un Quackzire Ci vorrebbe In questo caso Un laccio erboso Mostri Di tipo Di tipo Erba Per Sconfiggerle Facilmente Ma Io Non ce li ho Ah ecco Assorbi acqua Vedi Quello che ha Che ha Hooper Tra l'altro È una cosa strana Perché se piove Comunque si ha Ups Alla livello 25 Ci mettono Tutta la vita Aspettate un secolo Ok Ce l'abbiamo fatta Ah Ter quasi sta evolvendo Perfetto Abbiamo Quackzire Che non impara Assolutamente niente Mi sembra che Al 31 32 Forse Boh Imparava anche Terremoto Boh Non me ne ricordo Quindi a questo punto Corriamo la nostra squadra Andiamo a affrontare Furio Si chiamava No Furio No Quella Jack La Furia Non c'entra un cavolo Si chiamava Drake Boh Se ne ricorda Ah fammi vedere Se ho qualche MT Che magari Ci posso essere utile Assorbi pugno Assolutamente a nessuno E L'Archer Voso Sarebbe Ma Non la può imparare Nessuno Peccato Sarebbe stato Veramente Veramente Utile Allora Andiamo A sfidare Il capolestro Allora Io inizierei La sfida Con Vaniglia Perché Non voglio ritrovarmi Con delle brutte Sorprese Al massimo Potremmo Sacrificare Il nostro Ponita Io so Sarebbe Una cosa Meschina Ma Poi abbiamo Anche Geridos Insomma Ce la possiamo Fare Abbastanza Bene Sono proprio Stronzo Io Se vuole 25 mila Anni Ok Tararararara 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 Tac Cacchio Via 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 Per veloce Della luce Ok Iniziamo Salve Raramente Mi sfida Qualcuno Omar Non c'entra niente Con Drake E Furio Vabbè Lasciamo perdere Usa Geridos Con il suo primo Pokemon Quindi Le prepotenze Dei due Pokemon Si scontrano Eeeh Mamma mia Eccolo qua Qua excited Il Pokemon Io manderei Hope Perché almeno 40 Gli toglie Fisso Proviamo Un po' Dai 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 Resisti Grandissimo La sua velocità Cala Ma Si Grandissimo Hope Sala anche A livello 26 Tenta di Imparare Full misguardo Manderà Flotzel Io manderei Terqua Andiamo Un po' Usiamo gli sbadiglio Oh Grande Grandissimo Usiamo il pantano bomba Fammi vedere quanto li toglie Bene Non male Non male Non male Mandiamo vaniglia A questo punto Usiamo gli scintilla E vai così Grandissimi Ragazzi Grande Grande Omar ragazzi E' stato distrutto Cioè avete visto Che spettacolo di team Bellissimo Bellissimo Ma ti immagini Se non avevo collegato Ok l'ho collegato Il microfono Al computer Acqua di sale Perfetto Credo che L'andrò A Vediamo un po' Dove è acqua di sale Eccola qua A Geridos Perché Terqua Non la puoi imparare Strano Però E' speciale Se i piaci del nemico Sono scesi a meno di metà Questa mossa raddoppia Si Blocchiamola per ora Vediamo un po' dopo E quindi a questo punto Possiamo uscire Ma non esco dalla palestra Perché se no Ci sono quei C'è Daya Diamant Che inizia a scassare E Omar Lo stesso Io quindi Avete sentito Lo scricciolio Della serie Vi dico Come al solito Votate Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Mi piace E se non avete visto Ancora il mio Pack opening Con Ibra Messi Ed Tiarrì Arrischia Se i primi due Non ci sono Ve lo lascio In descrizione Votate Commentate Iscrivetevi Ciao ragazzi